Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini ormai risponde a tono a Letta, che è diventato l'antagonista. Come Casalino era il portavoce, Letta diventa l'antagonista, l'anti-Salvini, per la serie Nuove Professioni in Parlamento. Salvini dice, ma Letta inventa cose per ricordarsi di esistere, stia sereno, inventa cose. Ma diciamo che Letta più che inventa cose, Letta sta rispolverando dal cassetto polveroso le cose che ha trovato. Che cosa ha trovato? Ha trovato la legge elettorale, il voto ai sedicenni, lo iussoli, quindi ha preso queste cose dal cassetto e le sta sbandierando perché non ha idee. Se fosse una persona che in questi mesi avesse maturato sull'economia, sulla crisi sociale e sanitaria delle soluzioni, adesso sarebbe arrivato, ecco, queste sono le mie proposte, tac tac tac, come fa Salvini le proposte. Invece è andato a rispolverare delle vecchie cose che non hanno niente a che vedere col momento storico attuale. Vi fa capire l'inede... che questo, vabbè, vi fa capire quanto è inadeguato Letta in questo momento. Lui inadeguato a capo di una scatola vuota che è il PD. Questa è la fotografia della realtà. D'altronde una scatola vuota non poteva avere come capo Bonaccini, un vero politico. Una scatola vuota doveva avere un Letta che dice queste cose senza senso. L'accoppiata è perfetta. Ma per Salvini inventa cose per ricordarsi di esistere. Dice cose perché è diventato l'antagonista. Che tristezza, ma è l'antagonista. E dice così, Salvini, io lavoro benissimo con il presidente Draghi. non ci conoscevamo. Stiamo maturando conoscenza personale, ripetuta telefonica, quasi quotidiana. Anche ieri abbiamo trovato una soluzione positiva. Leggevo di scontri inesistenti. Mi dispiace che il segretario Enrico Letta, per ricordarsi che esiste ogni giorno, se ne deve inventare una. Dallo Iussoli a Salvini che tiene in ostaggio il CDM. Salvini non è il Consiglio dei Ministri. Per esempio, vi dico una cosa. Siamo riusciti, dice, addirittura d'arrivo e ne vedo orgoglioso, un primo straordinario fondo per le persone con disabilità da 100 milioni di euro che non c'era all'inizio del CDM ma che aiuterà centinaia di famiglie in difficoltà perché in un anno di Covid e disabili hanno sofferto più di tutti. Lo abbiamo fatto ragionando con Draghi e costruendo un percorso. Qui vedete che Salvini, che ha bloccato questo GDM per tre ore e mezzo, è riuscito a fare introdurre 100 milioni di euro per le disabilità. Secondo voi, Letta aveva anche solo lontanamente pensato alla disabilità, aveva anche solo lontanamente pensato alle cartelle esattoriali, aveva delle proposte su diversi temi. Le proposte se ne possono fare migliaia, le migliaia che ha fatto il centrodestra a Conte, che Conte poi non ha mai ascoltato. Io consiglierei a Letta, caro Letta, sveglia, basta con quelle cose che hai trovato nel cassetto polveroso, mettiti lì così e pensa delle soluzioni. Naturalmente Letta da solo non può pensare a tutte le soluzioni. Salvini, come i capi politici, hanno dei consiglieri, persone che gli dicono guarda sulla disabilità potremmo fare, lui pensa, guarda che sulle cartelle esattorali si potrebbe fare questo, con dei dati. Probabilmente Letta di suo non ha idee. In più intorno a tutte persone che non hanno nessuna idea, anche perché hanno vissuto in questa scatola vuota che è il PD, e quindi sia lui non ha niente da proporre. E l'antagonista Letta vede Salvini tuttologo che propone su tutto. Ma attenzione che Salvini non è che da solo propone su tutto, ha dei consiglieri che lo aiutano nelle proposte. È ovvio, uno non può sapere di disabilità, di cartelle esattoriali, devi avere delle persone che ti aiutano. Ogni partito ha il responsabile economico, il responsabile di qui, il ministro di là. Quindi lui chiama, sente le persone che lavorano con lui e trovano degli accordi e fanno delle proposte. Matteo Salvini poi aggiunge che l'obiettivo pace fiscale è un obiettivo non della Lega, ma che riguarda 20 milioni di italiani. Su di loro incombe una cartella esattoriale, a volte vecchia anche di 10 anni. Così Salvini, parlando con i giornalisti al termine dell'udienza preliminare del caso Open Arabs, dice molto bene, il decreto sostegni interviene su salute, scuola e turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi, bene i ministri, male molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il CDM senza per altro risultati. Pessimo inizio di Salvini. Caroletta, i risultati ce li ha avuti Salvini, te li ho raccontati prima, ma lui che è l'antagonista, ovviamente l'antagonista deve comunque criticare la persona per cui lui è l'antagonista. E vede un pessimo inizio di Salvini, invece Salvini ha ottenuto delle cose che, come dice il capo della Lega, non per me, dice per gli italiani, per 20 milioni di italiani. E Salvini lo aveva subito messo a tacere dicendo c'è chi pensa all'oglio soli e c'è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà, con un decreto da 32 miliardi. Basta con le polemiche, Enrico, stai sereno, un po' quella famosa frase che aveva detto Renzi prima di riuscire a far fuori politicamente Letta e prendere il suo posto come presidente del Consiglio. No Letta, stai sereno, ma stai sereno. È così. Salvini, con questa battuta, gli ricorda stai sereno, come dire guarda che ti hanno già fregato, ti hanno già cacciato, stai sereno. È un po' una stoccata, così. Ma il leader della Lega dice fare giustizia, ha continuato poi il leader con i giornalisti, di questo macigno è un obiettivo comune. Nel testo del decreto uscito ieri ci sono quattro righe in cui il Governo si impegna entro il mese di aprile a definire una strategia completamente nuova sulla riscossione e sulla rimozione di gran parte dell'arretrato. Come primo decreto, essendo pur sempre eredità del Governo Conte, lo abbiamo migliorato abbondantemente, dice, se è un punto di partenza sono estremamente soddisfatto. Il nostro obiettivo rimane la pace fiscale, l'azzeramento dei codici degli appalti e l'apertura dei cantieri. rimane lo sblocco degli sfratti, tutelando i danneggiati dal Covid, ma restituendo un senso alla proprietà privata che è stata lesa quest'anno. E a proposito del nuovo scostamento di bilancio, i 20 miliardi di cui leggo non sono sicuramente sufficienti, ne serve almeno il triplo, conclude Matteo Salvini. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Poi, a chi interessa, ci sono anche gli abbonamenti, che sono una cosa in più. Grazie a tutti e ci vediamo presto.